Siamo presso l'associazione ATRAT, associazione trapiantati di Taranto Onlus, ho al mio fianco il presidente Francesco Vincenzo e il legale, l'avvocato che appunto assiste l'associazione, l'avvocato Carmine Cua, perché vogliamo darvi ulteriori aggiornamenti circa il discorso dei rimborsi nei confronti dei trapiantati. In una delle precedenti puntate dello sportello del cittadino avevamo menzionato tutta una serie di atti giudiziari compiuti dall'associazione, in quanto mentre l'associazione l'assistito chiedeva la somma X, appunto per le spese sostenute, cifra ovviamente certificata, l'ASL in molte occasioni ha riconosciuto un rimborso inferiore. L'associazione ha compiuto i suoi passi dal punto di vista giudiziario e c'è una sentenza proprio di questi giorni in cui il giudice ha ingiunto all'ASL il pagamento appunto della somma residua. In buona sostanza la signora X, la chiamiamo così, è andata a Roma al Bambin Gesù e ha certificato una spesa di 203 euro, di 203 euro e 80 centesimi, quindi spese per treno e spese per vitto. Parliamo di cifre minime, 192 euro di treno, peraltro tutto certificato con appunto biglietti di treno in classe super economy o classe base, una miseria di spese di vitto, due persone per una giornata 11 euro, parliamo di una media di 5 euro a persona e quindi la somma è 203 euro e 80 centesimi. L'ASL che cosa fa? Riconosce una cifra inferiore e è rimborso soltanto 126 euro e 10 centesimi. L'associazione si rivolge al Tribunale di Taranto, sezione lavoro e il Tribunale di Taranto ingiunge, quindi dà ragione all'associazione e dice, ah cara ASL tu devi, non solo devi dare, corrispondere quel rimborso, quella entità del rimborso mancante di 77 euro e 70 centesimi, ma viene anche condannata, cioè devi anche sostenere le spese per la procedura pari a 50 euro. In buona sostanza l'ASL deve pagare. Allora Presidente, la domanda è, ma si può arrivare a questo? Cioè davanti a cifre, a somme certificate, documentate, che senso ha essersi opposti da parte dell'ASL per poi, per poi dover comunque pagare in vista, alla luce di un pronunciamento del giudice? Cioè uno dice, io voglio dare per scontata la buona fede dell'ASL, però signori cari, qui ci sono tante situazioni in cui sono stati riconosciuti dei rimborsi parziali. E puntualmente la magistratura che dà ragione all'associazione. E poi oltre al residuo da pagare si aggiungono le spese legali. Insomma, Presidente, lo sconforto, lo sconforto deriva dal fatto che mentre ci sono persone che vengono assistite dall'associazione e quindi hanno gli strumenti giuridici per far valere i propri diritti, ci sono tanti poveri cristi che subiscono ingiustizia. Teniamo conto che si parla di migliaia di persone che in Taranto e provincia sono trabiantati di vari organi, dal midollo al fegato, al reno, al cuore e via di seguito. Ora, noi cerchiamo di tutelare i nostri associati, seguendoli, certo, noi facciamo i calcoli in base agli scontrini, fatture e tutto il resto. Ripeto, siamo umani, possiamo anche sbagliare noi sul calcolo, ci mancherebbe chi lavora sbaglia, però teniamo conto che non c'è una pratica che non viene contestata dal distretto unico. Il distretto unico riconosce in moltissime occasioni una cifra minore. Viene riconosciuto in parte il calcolo che noi facciamo e non ci è, ripeto, tenuto a sapere il perché vengono fatti i tagli su questi rimborsi. Ora, noi andiamo a ricontrollare le pratiche perché, ripeto, si può anche sbagliare, chi lavora sbaglia, però le andiamo a ricontrollare sugli scontrini, sulle fatture. Ma i calcoli ci danno sempre ragione. Andando nello specifico, io chiedo al direttore generale Rossi, al dirigente del distretto unico, il dottor Blasi, scusate, ma io voglio capire, no? Scusatemi, ma 192 euro di treno andata e ritorno. Stiamo parlando di, lo ripeto, repetita Juvent, dicevano i latini, di somme minime. Stiamo parlando di biglietti di classe super economy. Stiamo parlando di 11 euro di vitto per due poveri disgraziati, passatemi l'espressione, ma poveri disgraziati nel senso provati dalla malattia, e disgraziati colpiti da disgrazia sanitaria. Ma scusate, per quale motivo gli avete riconosciuto 77 euro in meno? Quando è tutto certificato? E quando poi, alla fine, come vedete, il giudice ha dato ragione all'associazione, il preavvocato? Eh sì, esatto. Ma questo è un caso proprio palese. Ci sono poche spese, solamente spese di trasporto e 11 euro di vitto. Quindi, insomma, inspiegabile, del tutto inspiegabile. Lei, peraltro, ecco, ne parlavamo prima dell'intervista, ha cercato anche bonariamente di evitare una conseguenza giudiziaria. Certo, perché effettivamente, come dire, scomodare un giudice per decidere una controversia di 77 euro, insomma, non mi sembra tanto, tanto corretto. Tanto è vero che prima di proporre ingiunzioni ho contattato l'ufficio legale dell'ASL, chiedendo appunto spiegazioni. E però, anche in questo caso, non è stata fornita alcun elemento utile. Questo, ripeto, è un caso palese, ma come questo ce ne sono anche tanti, per cui vi sono controversie in atto, vi sono ricorsi dinanzi al giudice del lavoro, decreti ingiuntivi e tutto. Perché? Perché l'ASL non riconosce mai effettivamente il dovuto, ma deve sempre decurtare qualcosa. È un comportamento che io mi auguro possa, quanto prima, non so, venire, possa risolversi, si possa cercare, non so, una soluzione, si possa chiarire. Presidente, c'è la soddisfazione per un pronunciamento, però c'è anche tanta amarezza, perché sono tanti i casi di cifre decurtate. Sono tantissimi. Ora, io dico, avere anche una chiarezza sul tipo e il metodo di calcolo che fa l'ASL. Però, ripeto, non ci è dovuto sapere il motivo o quale tipo di calcolo viene effettuato. Loro fanno soltanto i pagamenti secondo i calcoli loro, che poi, io ripeto, dico che sono sbagliati. Si può anche sbagliare sul calcolare qualcosa che non dovrebbe essere pagato, d'accordo, però avere quattro biglietti di treno, due dell'andata e due ritorno, di classe super economy, due panini e due caffè, tagliare è assurdo, tagliare 77 euro e 70 centenari, che può sembrare poco, ma per chi vive in condizioni di ristrettezza economica, quelle 77 euro fanno tantissimo. Sono come migliaia di euro per una persona che ne guadagna parecchi. Ora, 77 euro su 200 euro, ma stiamo scherzando. Non c'è dovuto sapere. Noi auspichiamo un confronto con l'ASL. Ci piacerebbe fare un bel dibattito in cui ci siete voi, c'è il direttore Rossi, il direttore generale dell'ASL, c'è il direttore del distretto unico, il dottor Blasi. Perché noi non pensiamo assolutamente che possa esserci un accanimento verso l'associazione. Non lo pensiamo, perché siete persone per bene, per carità, la vostra buona fede è indiscussa. Però, scusatemi, ma ci volete spiegare per quale motivo, dinanzi a queste cifre certificate, si operano decurtazioni e le decurtazioni sono state operate anche in altri casi? Resta un mistero. E penso che in uno Stato di diritto ci voglia la chiarezza. Penso che esista il diritto alla salute in Italia, no? Dovrebbe essere così. Il diritto alla salute principalmente. Ma se tu mi neghi questi rimborsi, parliamo di piccole somme, però ci sono da pochi euro a centinaia di euro. No, mi sembra giusto, è corretto, da parte di un'istituzione, di colui che dovrebbe rappresentare un'istituzione. Bene, noi attendiamo queste risposte, se mai ci saranno. Risposta è proprio un dibattito costruttivo, perché noi siamo dalla parte della gente che soffre, questo ci interessa. A me non interessa difendere l'associazione, a me non interessa fare sensazionalismo giornalistico, a me interessa capire perché certa gente che soffre debba essere più sola di quanto già lo è per purtroppo patologie, per disgrazie che madre natura ha dato, avvocato. Certo, sì. Peraltro, Presidente, lei in un'altra circostanza ha espresso una valutazione positiva su un'altra vicenda nei confronti dell'ASL, quindi non c'è da parte vostra una critica preconcetta nei confronti dell'ASL. Quando l'ASL sbaglia, l'ASL viene, tra virgolette, bastonata. Ma quando l'ASL opera bene, lei riconosce il merito? Ci mancherebbe. Proprio un fatto di giorni fa, siamo stati contattati come associazione per quanto riguarda una paziente ottantenne che non era stata vaccinata. I familiari ci hanno contattato in modo che noi ci potessimo interessare presso l'ASL per far vaccinare questa paziente. Bene, io ho cercato di contattare il dottor Conversano che al suo ufficio però non c'è stata alcuna risposta né da parte sua né della segreteria perché era impossibilitato in quel momento e ho contattato la direzione sanitaria dell'ASL, il dottor Colacicco. E devo dire con grande soddisfazione che la segreteria del dottor Colacicco, della direzione sanitaria, mi ha saputo consigliare. Quindi ho inviato un'email al CUP liste di attesa spiegando la situazione di questa paziente. Devo dire con felicità che nel pomeriggio è stata contattata la signora e il giorno dopo è stata vaccinata dal suo medico curante. Più che soddisfatti, devo dire, grazie alla direzione sanitaria. Come vedete noi cerchiamo di essere imparziali, lo è anche l'Associazione, però sulla questione della riduzione dei rimborsi attendiamo risposte, pretendiamo risposte, pretendiamo un confronto, un'intervista, una dichiarazione di qualsivoglia tipo per spiegare le ragioni di questi comportamenti, di queste scelte continue di tagliare i rimborsi. Tagliarle ingiustificatamente, come ha dimostrato la magistratura. Noi attendiamo in religioso silenzio, chissà se mai ci saranno risposte. Grazie a tutti.